buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento questa splendida porsche 911 996 carrera 4 coupé tiptronic vettura seconda versione cioè mk2 3.6 litri 320 cavalli a dispetto di quanto dicono tanti che non hanno nemmeno mai provato un cambio tiptronic ritengo personalmente conoscendo le porsche abbastanza bene e sufficientemente per dirlo che il tiptronic sia un cambio veramente interessante e realmente coevo con la tipologia di auto ricordiamoci che un'auto che ha circa 20 anni è stata immatricolata nell'anno 2002 ha percorso 160 mila chilometri anzi 161 mila 900 chilometri completamente a tagliandati presso rete ufficiale porsche mai sinistrata sensori di parcheggio posteriori ruota e lega 17 pollici sport classic abbiamo pelle soft un accessorio dell'epoca interno totalmente blu pelle estesa quindi anche cruscotto tre pannelli volante sportivo con tasti per il tiptronic ecco i 161 mila 920 chilometri la pelle estesa sul cruscotto la riconoscete dalle impunture abbiamo il sistema psm escludibile il pcm1 climatizzatore automatico ecco la leva del cambio automatico sequenziale gli alzacristalli elettrici specchio retrovisore auto nabbagliante sedili elettrici quello di guida con memorie faccio vedere anche i sedili posteriori realmente intonsi questa vettura è tenuta veramente molto molto bene è vero a 160 mila chilometri ma vi ricordo che a equivale questo chilometraggio una percorrenza media di 8 mila chilometri l'anno vi aspetto gussago presso il nostro autosalone pasolini auto per vedere provare ed eventualmente acquistare questa splendida 911 grazie